ciao a tutti dove siamo? siamo al buli a Firenze facciamo vedere il nostro cartellone siamo pista numero 6 vita francesco e gabriele dov'è gabriele è qui chi è che farà il primo giro questo è papà francesco chi vincerà inizia la sfida attento che pesantissima prendi quella più leggera è quella è quella blu chi inizia? vita inizia vita vediamo un po' fuori questa è una balla fortunata fuori a me a me a me a me tocca francesco ca francesco via vediamo se tocca francesco stessi vediamo dove va questa palla vai uno eeeh ma che rincorsa caricamento riscaldamento pronti due due hai un altro tentativo vai tocca ancora papà francesco due hai fatto cadere due birilli dai andiamo oh eeeh vediamo francesco sette punti totali sette ora tocca Gabriele figlio Gabriele prendila dai bravo metti le dita bravissimo tienila da sotto vai 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 lancia bravissimoooooo siiii quanti punti hai fatto vediamo 5 punti vai tocca ancora a te figlio Gabriele quella rosa quella rosa è più leggera si girala bravissimo bravo tienila da sotto bravo attento a non scivolare vai pronti che forza vai 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 strike siiii strike vediamo quanti punti vediamo ma c'è la corona vediamo c'è la corona la corona come la corona strike hai fatto strike ora tocca a mamma vita mamma vita dai almeno un birillo brava no vai 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 e questa è buona è questa è bella questa è bella uno 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 va bene va bene va bene ora tocca a papà francesco metterlo metti perché poi ogni volta 100% fuori 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 si Di nuovo, di nuovo, è l'altro tentativo Vai, vai, quella è leggera per te, eh Prendi quella più pesante Che tu sei un uomo Vai Tocca, figlio, Gabri Ci sei? Attenzione ai piedi, eh Vai, mantieni da là Ci sei? Ci sei? Vai Dai, 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 dai Bravo Sì, sì Ha cambiato direzione Vai, ancora Vediamo i punti 16 punti È in vantaggio, figlio, Gabri È in vantaggio, figlio, Gabri In vantaggio Vai Con la maglia di Pikachu Questa è perfetta Vai, 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 vai Mamma, è in vantaggio Mamma vita 1 Eh sì Mamma vita 1 Vai, faccia a te È buona, è buona È buona È buona Molina È buona Sì Vediamo sa Tرا È un luogo Siamo? Quanti punti? Quanti punti, figlio Gabri? Quanti punti? 25, figlio Gabri, 25, ora tocca al capo, capo famiglia, papà Francesco. Sì, fuori! Tutta questa preparazione per niente, è leggera quella, si è un imbroglione, quella verde, vai! Oh, questa va, questa va, questa va! E qui se la giocano papà Francesco e figlio Gabri, papà Francesco 14 punti, figlio Gabri 25, mamma 6. Vai, 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 vai Ohhhh, 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 fuori! Tiap 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 tiap! Questa è la palla fortunata! Non è una palla che ti pini da dentro! Anche la palla che si asciuga! Ehi, 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 ehi. Andiamo, tocca ancora papà francesco, vai! Abbiamo la seconda chance, vai! Fuori! Ehi, papà francesco sale a 17 punti, e il figlio Gabriele ancora in vantaggio, vai! Pronto? Oh, questa è buona, questa è buona, questa è buona! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, prendi l'altra, quella rosa, vai, vai, vai! Lascia, lascia, lascia! Ah, aspettavi quella! Vai! Vai! Che tiro! Questa è buona, questa è buona, questa è buona! Bravissimo! Oh, ma stai vincendo tu, lo sai? Sì, figlio Gabri! Guarda i punti! Sono tutti qui i punti! Sono tutti qui, mamma vita 9! Francesco, papà francesco 17, figlio Gabri 38! 38 punti! 38 punti! È bella, è bella, è bella! È buona, è buona! È bella, è bella! Strike! Quasi! Sì! 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 Mamma vita 16, papà francesco, papà francesco, siamo lì, eh? Quasi, eh! Siamo lì, eh? No, tocca ancora a papà! Figlio Gabri è carico, è pronto, non vedi l'ora! Vai! Oh! Questa è buona! Sì! Sì! Hai fatto strike? No, solo uno! Figlio Gabri è pronto! Nel frattempo ha già tirato la sua palla da bowling! Wow! Due! Due! Sì! Che forza! 8 punti hai fatto! Vai! Ci siamo? Sì! Vai! Che forza! Dai che buona! Va bene, va benissimo Stai vincendo tu, Videografi Stai vincendo tu E' bella Andiamo Strike Uno Uno Riproviamoci E qui se la giocano Papa Francesco e figlio Gabri Una Fuori Il più forte è figlio Gabri Comunque, guardalo Guarda come ti presenta Che forza Aspetta Va Due Due tiri Due birilli Vediamo qui Eh sì Figlio Gabri È netto vantaggio Netto vantaggio Andiamo a vedere Vai Con le sue scarpe che si illuminano Fuori Fuori Vediamo Mamma vita 24 35 Papà 54 Figlio Gabri Amore Adesso Lui Amore È Giap Is Non È È È È È È È È È Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Bravo, bravo, guardiamo la palla come arriva, eccola, andiamo? E' buona, è buona, è buona, va bene, va bene, va bene, vediamo quanti punti siamo, manca poco alla fine della partita, manca poco, è il vantaggio figlio Gabri con 60 punti, andiamo con mamma vita. Ok Siamo quasi pronti e papà Francesco vuole imbrogliare prendendo la palla da bowling più leggera e invece no, devi prendere quella più pesante, imbroglione, imbroglione. Eccola lì, niente, il secondo tentativo, andiamo, oh, oh, eh, neanche un birillo questo giro, neanche un birillo. Ancora figlio Gabri, ci siamo quasi, aspetta eh, aspetta, 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 vediamo la tua faccia, concentrata. Dai, che tiro di Pikachu. Oh, dai, 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 sì, che forza, che forza. Pikachu all'attacco Eccola appena uscita dal forno Vai Pikachu Pikachu all'attacco Dai che va Dai che va Sì un birillo Andiamo a vedere i punti Andiamo a vedere i punti Manca poco 69 pillocabri 6-9 sempre in vantaggio 7-9 sempre in vantaggio Ci siamo Ci siamo Fuori Vediamo papà Francesco cosa ci combina Fuori anche questa Bravissimo papà Francesco Ora tocca al figlio Gabri Che tra un po' Sarà dichiarato vincitore di questa partita Aspetta Vai pronti Via Ora si ferma secondo me Si ferma No Niente Va bene così Va bene così Tanto stai vincendo Andiamo a vedere Il risultato Eh sì Eh sì Settantacinque figlio Gabri Sette cinque Ultimo tiro Ma questo è l'ultimo tiro No Ma questo è l'ultimo tiro Lo sai Figlio Gabri Sette cinque ultimo tiro mamma vita ha superato papà francesco lo sai ci siamo? rincorsa che lancio un'altra possibilità un'altra possibilità una un solo birillo ci giochiamo un birillo fuori fuori ecco che tocca figlio gabri figlio gabri mi tocca ultimo tiro ultimi due tiri dove va? bravissimo ultimo tiro ultimo tiro oh arriva la palla fortunata è finata eccola ultimo tiro di questa partita e poi dichiariamo il vincitore arriva 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 guarda un po' guarda un po' andiamo a vedere il vincitore eh andiamo a vedere la classifica finale dice papà francesco è la classifica finale con con 44 punti mamma vita papà francesco 52 punti il vincitore il vincitore di questa partita sei contento sei emozionato ma sai perché? perché oggi sei pikachu e pikachu è fortissimo il vincitore figlio gabri eh ma con questi muscoli non potevi fare altrimenti amici ti è piaciuta questa partita? mi è piaciuto questo video se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate tanti like mamma vita e figlio gabri vi mandano un saluto e anche papà francesco ciao